Il sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nunes ha inviato una lettera alla presidenza del Consiglio dei Ministri nella quale si richiede un riscontro in merito alla proposta d'impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale della Legge Regionale numero 4 del 2024 nella parte con la quale è stata sancita la riperimetrazione della riserva del Borsacchio. La lettera è arrivata nel momento in cui scadevano anche i termini per il pronunciamento da parte del Ministero e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito a una questione che ormai ha avuto connotati internazionali. Chiediamo alla Premier Meloni, eletta tra l'altro nella nostra circoscrizione, che dovrebbe avere a cuore il territorio abruzzese e in particolar modo la provincia di Teramo, orfana se non di qualcuno che ci rappresenta a livello di maggioranza governativa. Ecco appunto chiediamo di prendere una posizione chiara. Il sindaco Nunes ha rappresentato l'amministrazione comunale e la comunità di Roseto e ha sollecitato chiarezza sulle intenzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seguito a notizie contrastanti alla presa di posizione del presidente Marsiglio sulla presunta incostituzionalità della riperimetrazione. Senza l'approvazione del PAN si continua in quella situazione di Stasi che è stata sì il vero danno per tutti coloro che oggi si lamentano ma quel danno è stato portato dalla politica che non ha saputo negli anni prendere delle decisioni. Mi permetto di dire che questa amministrazione insieme a Regione Abruzzo, ci tengo a ripeterlo, ha saputo in poco tempo istruire le oltre 70 osservazioni contro dedurle e trasmettere a Regione Abruzzo uno strumento pronto per essere approvato. Questi sono i tempi della politica certi e decisi dall'adozione fatta a fine consigliatura della scorsa amministrazione grazie ai voti degli consiglieri di minoranza, cioè del sottoscritto, del consigliere neoeletto Pavone e del vice sindaco Marcone e poi oggi abbiamo noi contro dedotto e fornito a Regione uno strumento. Quindi questa è l'unica strada. Tutto il resto è stata una trovata elettorale che come ho visto non ha neanche premiato coloro che si sono esposti in questa direzione.